Benvenuti in Fendi. Fendi è un marchio italiano di moda di lusso che produce abbigliamento, borse, accessori e orologi. Il marchio è stato fondato nel 1925 a Roma da Edoardo e Adele Fendi, ed allora ha acquisito una grande reputazione nel mondo della moda e dell'accessorio di lusso. Negli anni 80, Fendi ha iniziato a collaborare con aziende orologere svizzere di alto livello per produrre orologi di alta qualità con un design elegante e sofisticato. Gli orologi Fendi sono disponibili in una vasta gamma di stili, da quelli classici con cinturino in pelle a quelli più moderni con cinturino in metallo. Tra gli orologi Fendi più popolari si trovano il Fendi Selleria, il Fendi Crazy Carats e il Fendi Momento Fendi. Il Fendi Selleria è un orologio da polso unisex con un design classico e raffinato, caratterizzato da un cinturino in pelle realizzato a mano con tecniche tradizionali di artigianato italiano. Il Fendi Crazy Carats, invece, è un orologio da donna con un design moderno e innovativo, dotato di una lunetta rotante con pietre preziose che permette di cambiare il colore degli indicatori delle ore e dei minuti. Il Fendi Momento Fendi, invece, è un orologio da polso maschile con un design sportivo ed elegante, dotato di un cinturino in pelle con una finitura a tessuto che gli conferisce un aspetto unico e distintivo. Gli orologi Fendi sono realizzati con materiali di alta qualità e con una grande attenzione ai dettagli. L'azienda utilizza pelle pregiata, oro, argento e altri materiali pregiati per creare orologi di lusso che durano nel tempo. Inoltre, Fendi ha una forte attenzione per la sostenibilità ambientale e utilizza materiali ecologici e pratiche produttive a basso impatto ambientale per ridurre l'impatto sull'ambiente. In conclusione, gli orologi Fendi sono un'ottima scelta per chi cerca un accessorio di lusso con un design elegante e sofisticato. Grazie alla loro alta qualità e al loro stile unico, gli orologi Fendi sono diventati un must-have per gli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso che duri nel tempo e abbia un design distintivo, gli orologi Fendi sono sicuramente una scelta da considerare.